Ciao Michele, ti contattiamo perché abbiamo un sogno eretico, che è anche un po' il sogno di poter incontrarti. Siamo un gruppo di giovani creativi, non tutti figli d'arte ma comunque d'Ada, che ama la scrittura e vive a Kina Town. La frase che quest'anno ci guida e che sia nel nostro percorso è MI DO IL PERMESSO! Proprio per questo ci piacerebbe poter dire ABEMUS CAPA! nell'ospitarti al Carta Carbone Festival di Treviso, evento letterario che da cinque anni ormai ospita scrittori e artisti italiani e internazionali e che dà risalto in particolare alla dimensione autobiografica. Per poter raccontare di te, dei tuoi testi, del caparezza autore ma anche del vero uomo che dovrebbe lavare i piatti. Insomma ti chiediamo di pimparci la tua storia nella certezza che da tuoi ascoltatori quali siamo ci farà stare bene. Perdona il confusionesimo di questo nostro messaggio. Noi speriamo che la tua curiosità si sia messa in moto. Grazie! 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 Grazie!